Nel Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria di Colle Atterrato Alto a Teramo si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra del Polo Tecnico della nuova sede dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise. La costruzione del primo lotto funzionale del Polo Tecnico è finanziato con i fondi Masterplan della Regione Abruzzo per circa 15 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di euro dell'IZS. Un giorno storico, aspettiamo questo evento da 20 anni e finalmente si sta realizzando. Il progetto è la parte iniziale del Polo Tecnico del nuovo Istituto Zoo Profilattico che sorgerà qui alla nostra destra. Si tratta di una camera stagna, camera stagna significa che è un edificio ad elevato contenimento biologico ed è su tre livelli per un totale di circa 5 mila metri quadrati. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto in modo più agevole, tutto qua, ci presentiamo sullo scenario globale dove siamo abituati a competere, dove siamo abituati a presentarci con delle strutture più all'avanguardia. I lavori termineranno quando? I lavori devono terminare per contratto prima di due anni, da oggi. Il mezzo profilattico di Teramo è sempre stato un punto di riferimento nazionale e internazionale perché ha saputo interpretare un ruolo che andava oltre la copertura del suo territorio, che ha sempre fatto molto bene ma ha avuto la capacità di essere un punto di riferimento sia per il Ministero sia per le organizzazioni internazionali. In questo bisogna ringraziare il direttore dell'istituto e il direttore professore Enzo Caporale che hanno messo l'istituto di Teramo al centro di questo sistema.